Ciao a tutti carissimi, benvenuti nuovamente in questo nuovo video dove oggi non andiamo a fare nessuna video ricetta perché ho delle domande che mi avete fatto voi sui social e voi sapete benissimo quanto siete importanti per me nel senso non siete soltanto un numero che grazie a Dio cresce ogni giorno di più ma mi piace sapere cosa pensate e quindi rendervi partecipi e attivi in questo canale allora di domande me ne sono arrivate tantissime io ne ho selezionate un po' anche per non fare un video troppo lungo magari ne farò un altro e vado a rispondere a queste qua che ho segnato Lorenzo mi chiede piatto preferito in assoluto poi mi dice anche che cos'è per te la tua terra e che ne dici di una bella serie sui lievitati della nostra provincia di Cosenza allora il piatto preferito in assoluto per me è certamente la pasta al forno la pasta china quindi mi piace che sia bella ricca, bella condita e poi nel forno possibilmente forno a legna perché c'è differenza quindi questo in assoluto è il mio piatto che preferisco che cos'è per me la mia terra? beh la mia terra per me è tutto lo sapete ormai mi conoscete grande amore nessuno è perfetto so che la mia terra non è perfetta come non è perfetta anche quella degli altri però io cerco sempre di fare emergere le tantissime cose belle che ci sono cercando ogni giorno tutti insieme di migliorarla e poi la mia grande fonte di ispirazione quotidiana soprattutto ripercorrendo sempre quello che è stato il passato cercando di migliorarne il presente poi che ne dici di una bella serie sui lievitati adesso che iniziano spero le belle giornate ancora fa un po' freddo visto che il mio forno a legna è all'aperto e lo conoscete benissimo inizio a fare qualche video in più sui lievitati passiamo avanti marco mi dice ciao tornerai a fare video recensioni sui locali tipici della nostra terra e sugli eventi tipici che caratterizzano particolari luoghi grazie un abbraccio allora marco la risposta è sì sì perché adesso si inizia con la primavera riaprono le attività e credo che abbiano bisogno di essere messe più in vista perché il periodo che è stato non è stato bello e se posso dare anche una mano personalmente per farle conoscere di più ne sarei particolarmente grato poi certamente io non sarò il tipo che andrò lì a fare la recensione con il voto da 1 a 10 come si vedono in tanti video non mi spetta a me non è una cosa che mi piace fare quello che posso fare vi porto virtualmente con me andiamo a mangiare insieme vi dico la mia quello che mi piace o quello che non mi piace e basta senza dare troppo troppo in modo selettivo il voto la classifica non c'è mai un migliore tutti hanno hanno possibilità di migliorare e poi il gusto è soggettivo quello che magari a me non può piacere a te può piacere e viceversa quindi vi faccio vedere almeno il posto e come come si mangia e quello che mangio io allora giuseppe invece un'altra bella domanda quale regione d'italia oltre la calabria apprezzi di più per il cibo i costumi alle tradizioni un caro saluto affettuoso giuseppe da catania non c'è una regione in particolare perché in ognuna io ne apprezzo il cibo i costumi e le tradizioni perché l'italia è bella proprio per questa è così diversa da regione in regione ma così speciale proprio per lo stesso motivo angelo invece mi dice domanda da un milione di euro addirittura saresti in grado di inventare un formato di pasta da fare a casa beh angelo a dire il vero sono già un paio di anni che ho creato ho fatto un formato di pasta mio almeno io ho fatto una ricerca non mi pare che ci fosse e ho creato anche l'aggeggio per crearlo non l'ho mai postato o meglio avevo fatto un piccolo video forse l'avevo fatto in merito ma non mi ricordo è stato tanto tempo fa e forse prossimamente vedrai qualcosa di nuovo mano invece mi chiede ciao gianluca quando il prossimo video con giangarlo suriano bella domanda che capita proprio a fagiolo perché con giangarlo mi sono sentito neanche due sere fa due o tre giorni fa non di più perché al per lo stesso motivo ci siamo detti la stessa cosa quant'è che ci rivediamo che così facciamo video insieme e ne abbiamo parlato e parlando parlando perché è un grande amico fraterno grande grande come me ma il rispetto il bene reciproco che abbiamo è qualcosa di davvero unico e appunto abbiamo pensato anche ad un'altra cosa però non vi voglio anticipare nulla lo vedrete nel prossimo video insieme a lui poi ve ne parlerò frank dice organizziamo un raduno alla riviera dei cedri con un banchetto infernale infernale quindi frank vorrebbe qualcosa di super piccante perché no io ci sono se qualcuno di voi si propone per aiutarmi ad organizzare questo raduno che ben venga chi vuole venire la riviera è aperta sapete che poi i calabresi sono particolarmente particolarmente famosi per l'accoglienza per cui non abbiamo paura di nulla loveless spero che ho letto bene ciao quando uscirà il prossimo episodio della panda la panda non è sparita ho già tutti tutte le riprese caricate nel computer manca giusto il tempo per fare il montaggio saranno ancora due o tre video il finale poi doma che dove riepilogherò tutto pertanto un po di pazienza e uscirà a breve l'altro video anto mi chiede quale piatto pugliese ti attira di più se vado così d'impatto il primo che mi viene in mente la focaccia barese e la seconda sono i panzerotti pugliesi tina invece mi scrive perché non hai fatto più video interviste alle famiglie calabresi che vivono in america sono sicuro che sarebbero felici di salutarci sono un pezzo di storia importante verissimo cara caratina e non sai quanto mi dispiace però siccome era una serie video caratina so che quella serie appassionava e appassionato tanti di voi ma non è terminata il problema è proprio sulla parte tecnica purtroppo io non posso essere in altre parti del mondo e per realizzare quel tipo di video ho bisogno di almeno un'altra persona un'altra persona che si impegna a fare le riprese e poi me le fa vera a me che faccio il montaggio del video finale pertanto le candidature sono ancora aperte se c'è qualcuno di voi in qualsiasi nazione del mondo che ha voglia di raccontarmi le storie calabresi il numero di whatsapp è qui sopra esposto come sempre potete scrivermi e così cerchiamo di organizzarmi perché purtroppo chi mi aiutava in quella serie in questo periodo è particolarmente occupata e quindi per un attimo abbiamo sospeso quella serie però ripeto se qualcuno di voi che sta da qualsiasi parte del mondo vuole collaborare in questo progetto che poi fa piacere a tutti vi prego di contattarmi vati mi chiede quanti grammi di pasta mangi al giorno beh allora quotidianamente normalmente così da lunedì al venerdì cerco un po di mantenermi ma intorno ai 100 120 grammi di pasta poi sabato e domenica e venerdì sera cerco di rilassarmi un po di più perché io fino al venerdì sono molto molto occupato con le spedizioni del negozio quindi da venerdì sera fino a domenica cerco di rilassarmi un po con la testa e per rilassarmi con la testa devo cucinare e devo mangiare bene quando è possibile quando non riesco ad accontentarmi anche solo con un panino al giorno non è che per forza è tassativo è vitale mangiare pesante voi vi vedete quando faccio insomma quei grandi piatti non è che ogni giorno mangio in quel modo max f 9 cosa si mangia a casa tua natale e pasqua certamente a natale lo spostiamo più sul sul menu a base di pesce però sempre con una pasta fatta in casa perché ci piace parecchio mentre poi per la pasqua ci spostiamo più sul sulla carne perché cominciano le belle giornate ci si augura quindi si accende il barbecue all'esterno e si fa tutto un po più sul sul menu di carne ma l'importante sia nel natale che nella pasqua non è mai quello che si mangia ma la prima cosa importante è l'unione della famiglia e che tutti stiano bene perché ne abbiamo passati tanti dove non abbiamo neanche preparato da mangiare ed è stato abbastanza triste quindi non è quello che si mangia ma il tutto il contorno cristian come mai non ce la faccio a ordinare qualcosa da te dalla svizzera mi chiede sempre di mettere il codice fiscale ma io in svizzera non ce l'ho caro cristian rispondo un po a tutti a tutti voi dalla svizzera che mi fate spesso questa domanda il problema non è il codice fiscale il problema è che purtroppo la svizzera non fa parte della comunità europea e noi non possiamo spedire al di fuori della comunità europea pertanto mi dispiace non poter accontentare le vostre richieste l'unica possibilità che avete se avete possibilità di andare ai confini con l'italia potete ritirare il pacco in un centro di ritiro bartolini o diverso anche da bartolini oppure se vi trovate vicini che ne so alla germania potete farvi spedire l'indirizzo la o di questo qualche amico o qualche punto di ritiro e dovete andare a ritirarlo voi più di questo non riusciamo a fare andrea lamanna mi dice come cominciato tutto e caro andrea qui ci sarebbe un video dedicato da fare solo per questo come cominciato tutto beh allora la passione per la cucina l'ho avuta si può dire da sempre se ti devo dire un input particolare che ho avuto in un giorno e quando più o meno all'età di dieci anni i miei erano andati in un viaggio in toscana e niente al ritorno da questo viaggio ho fatto trovare la tavola apparecchiata con un menù completo preparato interamente da me o anche avevo cucinato anche altre volte però in quel caso mi sono trovato davvero da solo e ho dovuto fare tutto di testa mio loro sono rimasti stupiti è stato tutto davvero buono e da allora diciamo che ho avuto proprio l'input di continuare invece per quanto riguarda come iniziato tutto con sfizi di calabria nel tutto iniziato nel 2007 ovvero aperto il negozio nel 2007 però il progetto l'avevo già iniziato un paio d'anni prima e ho unito le mie passioni l'informatica la comunicazione la voglia di far conoscere questa bella regione e la voglia di dare la possibilità a tutti di far arrivare un pezzo di calabria nelle proprie case con la comodità di trovare tutti i prodotti elencati in un unico sito e far la spesa come si fa nei negozi fisici tutto qui le difficoltà sono state tantissime sia logistiche che di varia natura però ad oggi dopo circa 15 anni mi ritengo davvero soddisfatto di quello che ho fatto e anche ancora tanta voglia di fare meglio di migliorarmi per offrire il meglio che c'è della calabria nelle vostre case e grazie anche a tutti quelli che quotidianamente mi danno fiducia francisco chiede ciao questo già te l'ho scritto pochi giorni fa dovresti fare un libro con tutte le ricette e spedirlo a chi lo richiede scusa la grammatica sono figlio di emigranti italiani saluti dall'argentina beh francesco intanto ti ringrazio e ti saluto cordialmente a dire il vero sì ci ho pensato non non lo nascondo e ho già cominciato a scrivere che forse più di un anno e mezzo però siccome non vorrei fare il classico libro solo di ricette calabresi mi sta richiedendo più tempo del previsto però un giorno spero che vedrai questo libro pubblicato e avrai la possibilità di averlo anche in argentina intanto grazie veramente los ale mi dice sei mitico grande e grazie per farci sentire le nostre terre meno lontane ciao da ale grazie ale anche a te quando questa non è una domanda però me la sono segnata perché volevo dirvi una cosa quando io parlo di di tradizioni di emigranti di piatti tipici di piatti storici ovviamente io parlo di quelli calabresi ma voi sapete benissimo che è esteso a tutti gli emigranti di qualsiasi regione perché quando cerco di fare insomma le ricette più vecchie e il pretesto per far raffiorare alle vostre mente i ricordi del passato po perché alla fine poi è tutto il mondo e paese non è che parlo dei calabresi ed è ogni video è rivolto solo ai calabresi domigrano carissimo hai mai pensato di creare un tuo ristorante sarebbe un'ottima idea beh ci ho pensato però al momento non è nelle mie priorità ma se un giorno dovesse succedere certamente non sarà un ristorante ma sarà un posto dove trascorrere insieme un momento felice e rilassante chissà forse un giorno il caro antonio privitera che saluto tantissimo insieme alla sua adorata figlioletta che fanno dei video simpaticissimi c'è un prodotto che ti piacerebbe avere disponibile per la tua clientela e che non sei ancora riuscito a proporre beh antonio ci sarebbero tanti prodotti certamente quelli che non è facile proporre alla gente sono i prodotti freschi le carni fresche che non si possono spedire e meritano davvero di essere assaggiate magari quando venite a fare una vacanza in calabria potete scoprire tanti altri prodotti interessanti anatema di benzina che curioso nickname mi scrive gialluca ti voglio troppo bene sei una persona semplice speciale e vorrei chiederti di parlare della tua giornata tipo tra il lavoro in campagna e i video con post produzione e tutto ciò che te ne deriva insomma come trovi l'equilibrio allora come si svolge la mia giornata beh innanzitutto vi dico che vado a dormire tardissimo un po per abitudine un po per cercare di sfruttare al massimo l'intera l'intera giornata anche perché poi la sera la notte con calma magari riesco a concentrarmi di più non c'è il telefono che suona in continuo quindi riesco a produrre di più e meglio in particolare la sera la dedico alla post produzione dei video se facessi solo i video per lavoro magari in una settimana riuscirei a portare più contenuti però questo non mi è possibile e poi alcune volte qualcuno mi dice che sono abituato ormai a vedere dei video che durano pochi secondi in dieci secondi fanno una ricetta personalmente non vedrete mai questo format di video perché io so benissimo che alla maggior parte di voi regalo con la mia video ricetta quei dieci minuti di compagnia e di relax quindi fare qualcosa da 20 secondi non è nel mio stile mai lo farò pertanto chi non ha il tempo da dedicarci al video può passare avanti che ci sono tantissimi altri contenuti super rapidi bene ragazzi non voglio annoiarvi ancora più di tanto perché davvero domande da rispondere ne avrei ancora parecchie se vi fa piacere scrivetelo qui sotto nei commenti qual è la vostra domanda e così in futuro magari farò un altro video e andrò a darvi le risposte vi ringrazio per la compagnia anche per oggi se vi fa piacere iscrivetevi al canale e soprattutto per essere aggiornati sui video successivi che usciranno ci sono tantissime cose interessanti ancora che ho da farvi vedere come sempre vi ringrazio di cuore per l'affetto dimostrato e per i complimenti che mi fate giornalmente vi mando un grande abbraccio dalla calabria e alla prossima ciao